16 dicembre belgirate o perlomeno sopra belgirate alla faccia che doveva nevicare ok va bene e niente bellissima giornata oggi ci si deve accontentare di ste due calogne massino piuttosto che niente le mel piuttosto in vista di giri belli la giornata è fantastica un vento della madonna però qua non si vede ma c'è persino il lago increspato è buona non fotografo gli arbusti che lì dietro che tanto non interessa niente a nessuno è buona solo per far vedere come è bello il lago quando c'è il sole e si vede fino lontano fossimo stati più in alto però chi si accontenta gode ma chi gode contento ciao ciao